Nel buio dei boschi liguri, tra i sentieri inesplorati del monte Zatta, si cela un'ombra del passato, un enigma avvolto nel mistero, l'ex colonia devoto. Tra le fronde degli alberi secolari, questa maestosa dimora risuona di storie dimenticate e di voci soffocate dal tempo. La struttura fu eretta nel 1930, con lo scopo di accogliere giovani provenienti da famiglie povere e orfani, ma in un secondo momento fu destinata anche come casa di recupero per tossicodipendenti. I muri parlano di avventure estive, di risate gioiose, ma anche di sogni infranti e di dolore. Avvicinandoci a questa struttura abbiamo percepito fin da subito un'aria sinistra e personalmente mi sentivo come al centro dello sguardo di molti occhi. E no, amici, non era una bella sensazione. Ad ogni modo ormai ero lì e dopo tutta quella fatica per arrivare in quel posto, di certo non mi sarei mai sognata di tirarmi indietro. Io insieme a Francesco del TPE e i ragazzi di Paranormal Life ci siamo addentrati in quelle stanze, lasciando poi intravedere una verità più sinistra di quanto si potesse immaginare. Ciò che si nasconde al suo interno è un enigma che attendeva solo di essere svelato. Siamo entrati senza aspettative, ma quello che abbiamo sentito lì dentro si è rivelato un qualcosa di particolare e difficile da spiegare. L'ex colonia devoto è un luogo intriso di fascino e mistero, che standosene lì in silenzio e solitario, gelosamente vuole custodire i suoi segreti. Un luogo che, una volta esplorato, credetemi, difficilmente si dimentica. Ciao anime amanti del mistero, bentornati sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Oggi, dopo un po' di tempo, ritorno con un nuovo appuntamento sul format Paranormal Experience. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, lo spiego molto brevemente. Questo format nasce dalla mia più grande passione che, come avrete sicuramente intuito, è il paranormale. Spinta dalla mia voglia di entrare nel vivo delle storie, ho iniziato a partecipare a diverse indagini insieme a Francesco del TPE, proprio per assaporare a 360 gradi questo mondo fatto di mistero e fascino. Ma non solo, perché questo format nasce anche e soprattutto con l'intento di farvi vivere, attraverso il mio racconto, un'indagine paranormale in un modo completamente diverso. Ovviamente, per guardare l'indagine e tutti i riscontri che abbiamo avuto, al termine di questo video, come sempre, vi invito ad andare sul canale del TPE, perché lì troverete la prima parte di questa indagine pazzesca e a seguire mercoledì prossimo, troverete la seconda parte. Per questa indagine non eravamo soli, perché con noi c'erano anche i ragazzi di Paranormal Life, Edoardo e il suo collaboratore. Ad ogni modo, giù in descrizione vi lascio tutti i link utili e info sui loro canali e video indagine. Ora direi che è arrivato il momento di iniziare, quindi mettetevi comodi, spegnete le luci e partiamo. A breve distanza dal Passo del Bocco, nel bel mezzo di una foresta di faggi lungo le pendici del Monte Zatta, a circa 40 chilometri da Genova, sorge una struttura di epoca fascista, chiamata Cologna Devoto. Quel giorno siamo arrivati sul posto verso le 19.30. Era una giornata particolarmente uggiosa e una leggera piovigine ci ha accompagnato lungo tutto il tragitto. Abbiamo camminato parecchio per raggiungere la struttura, ma la vista che c'era la sua, amici, era a dir poco meravigliosa. Eravamo praticamente immersi in un bosco e letteralmente circondati da centinaia e centinaia di alberi altissimi che quasi ci impedivano di vedere il cielo. Eravamo a circa 1150 metri di altezza, infatti faceva un freddo allucinante. pensate che lungo il tragitto, ma anche sul posto, abbiamo trovato ancora diversi blocchi di neve. Quindi potete immaginare la nostra felicità con addosso giacchette primaverili. Ad ogni modo la storia di questo luogo parte proprio da Antonio Devoto, un benefattore del luogo emigrato dall'Argentina dove fece fortuna come imprenditore e banchiere, arrivando ai vertici della scala sociale, che appunto decise di costruire questa imponente struttura. Pensate che una località poco distante dalla colonia si chiama infatti Poggio Buenos Aires e molto probabilmente deriva proprio dalle sue origini. Ad ogni modo fu poi qualche decennio dopo, dalla determinazione della moglie Elina Piombo, ad attuare la generosità e la lungiminanza del caro marito fino ad esigere questa imponente struttura, allora all'avanguardia, proprio con la funzione di centro per bambini orfani bisognosi e cagionevoli di salute, tant'è che ai tempi veniva chiamato sanatorio. Pare che il fatto misterioso parte proprio da qui, dalla sua costruzione. Infatti alcune voci e teorie paranormali affermano che la costruzione dell'edificio avvenne seguendo delle strane indicazioni. La struttura doveva avere cinque piani e 365 finestre, una per ogni giorno dell'anno e Antonio Devoto volle che fosse edificata esattamente in quel punto, in mezzo ai boschi e lungo le pendici del monte Zatta. Con certezza non si sa il perché di queste caratteristiche precise, ma se ci pensiamo bene fa pensare un po', se vogliamo, ad altre celebri case come ad esempio la Winchester House che, guarda caso, ha legato il loro nome allo spiritismo. Ad ogni modo la struttura venne edificata nel 1933 con tutto il rigore fascista del caso. Dunque fu prima orfanotrofio, poi casa vacanze per bambini e ragazzi, successivamente sanatorio per malattie polmonari e infine casa di cura per tossicodipendenti fino all'incirca gli anni 70, quando poi fu definitivamente abbandonato per ragioni sconosciute. Ok amici, arrivati a questo punto ci tengo a precisare che noi non conoscevamo la storia precisa quando siamo entrati all'interno di questo posto. Abbiamo letto giusto due informazioni generali, ma non siamo andati nello specifico proprio per non farci influenzare dalle storie. Ad ogni modo i riscontri fin da subito sono stati pazzeschi. La cosa che sapevamo con certezza è che lì avevano appunto soggiornato dei bambini per lo più orfani, che avevano perso genitori in guerra, bambini bisognosi e in alcuni casi anche malati. Poi successivamente, una volta che sono tornata a casa, facendo un po' di ricerca approfondita, mi sono imbattuta in un articolo dove parlava appunto della storia di un ex alunno del collegio sanatorio a partire dal 1955, che si offrì proprio per un'intervista direttamente sul posto, raccontando la sua esperienza e mostrando anche il regolamento di ammissione per poter soggiornare al collegio. Amici, la prima cosa che mi ha fatto venire immediatamente i brividi è il nome di questo signore, ovvero Giacomo. Dovete sapere che questo è stato proprio uno dei nomi usciti durante la sessione con il Ghost Box. Ora, non posso dire che si tratti di lui? L'articolo che ho trovato risale al 2019 e mi auguro che il signore in questione sia ancora vivo e in salute, ma voglio dire, possibile si tratti solo di una coincidenza? Ovviamente per privacy non mostrerò la foto del signore, anche perché non ho il suo consenso. Ad ogni modo, Giacomo descrive i suoi ricordi all'interno di questo luogo e certi ricordi, amici, personalmente mi hanno fatto venire i brividi. Era un luogo gestito principalmente da suore e le regole erano molto rigide. Ora vi voglio leggere come Giacomo riassume in poche righe i suoi cinque anni vissuti all'interno di questo posto, giusto per farvi capire che aria si respirava lì dentro. Giacomo dice, in quell'ala destra c'erano i maschi, nell'altra le femmine. Eravamo circa in 150. In ogni camerata dormivamo in 24 per mezzo di 12 letti a castello. Nella lavanderia e nella cucina al piano seminterrato ci lavoravano gli unici civili del collegio. Sì, perché tutto l'andamento del complesso era invece gestito dalle suore. Le nostre giornate erano in pratica sempre le stesse. Alle sette passava la suora a svegliarci, giù dal letto per inginocchiarci a mani giunte per recitare l'Ave Maria. Colazione al refettorio con caffè latte e gallette. In aula per la scuola. Pranzo con breve penichella. Poi ancora in aula per i compiti. Merenda con biscotti ripieni di cioccolato e poi a giocare nel parco, tra gli alberi del bosco, dietro la porcilaia o alla casa del custode. Stanchi rientravamo per la cena. Poi pigiama e branda. Un giorno a settimana prima di andare a dormire proiettavano un film in bianco e nero, solitamente le comiche di staglio e olio. Alla domenica, naturalmente, la messa nella cappella al piano terra. Invece ogni due settimane salivano il dottore e il dentista. Ricordo che mi cavò un dente senza anestesia, però poi non avevo più male. Beh, amici, da questa breve descrizione è facile immaginare come dei bambini potevano viverci. Indubbiamente era un luogo meraviglioso, ma si tratta pur sempre di bambini che per anni facevano sempre le stesse cose, senza mai lasciare la struttura, ma soprattutto senza vedere mai i suoi genitori. Ad ogni modo, tornando alla nostra indagine, tutto tornava alla perfezione. Bambini, posso dire quasi con certezza che alcuni di loro girano ancora lì dentro e, credetemi, la cosa mi ha spezzato l'anima in due. E come vedrete, appunto, poi nella seconda parte dell'indagine sul canale del TPE, ma anche sul canale di Paranormal Life, quando ci siamo trovati nella cappella, diciamo che ho tentato nel mio piccolo di aiutare queste anime, cercando di mandarle verso la luce. Nella sessione di Ghost Box, eseguita proprio all'interno, ci siamo trovati in un'anguina della cappella abbiamo avuto conferma che un bambino chiamava e cercava ancora la sua mamma chissà forse la stessa che non andò mai più a riprenderlo questa cosa da madre mi ha fatto stare malissimo quando ci si trova di fronte a queste cose e ti senti impotente ho capito subito che il motivo che forse bloccava lì quell'anima innocente era proprio la speranza di veder tornare sua madre a riprenderlo cosa che forse in questo caso non avvenne prima di scendere al piano di sotto abbiamo svolto anche una sessione con le bacchette da rabdomante e anche in quel caso abbiamo parlato con un bambino che tra l'altro voleva parlare solo con me bimbo sei qui vicino a me se si può incrociare le bacchette per favore sei vicino a me guarda suonato suonato che si stanno spostate incrociate si si ha suonato no vedi vedi guarda anche tu guarda anche tu guarda anche tu guarda il quadrato bianco vedi ok grazie l'energia che ho percepito nel nel momento in cui facevo le bacchette era particolare mi sentivo come se potessi sentire le emozioni di quel bambino ad ogni modo io fin da subito ho avvertito la sensazione che in quel posto abitano diverse entità e come poi tutti noi abbiamo avvertito e percepito pare che la zona superiore dell'edificio sia prevalentemente abitata da entità negative lì infatti dalla ghost box sono uscite delle risposte agghiaccianti e soprattutto quando qualcuno ha comunicato in modo chiaro che voleva me al piano di sopra la madre la madre chi c'è sopra vogliamo un nome voglio te sembrava sopra ci dici il nome di chi vuoi che vada sopra a me sembrava che avessi detto Sabrina la sabrina sabrina vuoi che vada di sopra? sì Sabrina deve andare appena sopra? ma c'è un bambino di sopra? Mauro ma devo dire che un pizzas ho quasi così tanta attività speriamo partiti in un modo perché è proprio me come ti chiami enrico guido quanti anni c'è da aggiungere perché prima non l'ho detto che su questo posto girano voci molto inquietanti infatti pare sia stata la sede di messe nere e riti satanici e diciamo che considerato la sua posizione non c'è sicuramente da stupirsi di questo secondo me questo il classico luogo dove diciamo bisogna passare tante ore al suo interno prima di avere un quadro veramente dettagliato ma credetemi trovarsi lì in piena notte al freddo e con il nulla più totale attorno era seriamente difficile passarci tanto tempo personalmente sento e percepisco molto le energie attorno a me e anche se ero protetta a dovere all'interno di quel posto mi sentivo completamente scarica l'entità hanno comunicato parecchio con noi nel mio caso soprattutto mentalmente diciamo che mi arrivavano dei flash improvvisi di immagini sentivo emozioni contrastanti ma è stato davvero molto interessante vedere come tutto combaciava con la storia originale del posto qualcuno potrà dire va bene semplice suggestione e ci sta ma vi posso garantire che ciò che abbiamo sentito era reale come ad esempio i colpi in risposta ai miei fateci capire dai se vi vado di giocare bussate tre colpi a una porta ora parca miseria ma questi erano colpi decisi eh sì questa era era proprio ta 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 4 o 5 volte non trovo 4 o 5 volte sì c'è raga allora intorno a noi c'è un po' di condensa un po' di gocce che cadono ma si riconoscono non sono così forti e così stanziato qualcosa era un battere sul muro non sulle scale una porta sulle scale secondo me le scale faccio sembrato tre volte vediamo se risponde prova proviamo sono messo sulle scale perché prima che non mi sono girato bene solo mi sembra di aver sentito una risata vicchio ma raga stanno rispondendo di brutto voci passi e a proposito di anomalie amici voglio anche mostrarvi una foto che mi ha mandato edoardo il giorno dopo scattata dalla sua fotocamera da sola allora premetto che io non sono brava a lavorare le foto per capire se ci sono anomalie insomma strane ma io qui ci vedo qualcuno dietro di noi non c'era assolutamente nulla ma se guardate attentamente sembra che qualcuno ci spia dalla porta vi lascio la foto così che magari qualcuno più esperto di me può analizzarla e farmi sapere la sua opinione comunque mi ricordo esattamente quel momento che la fotocamera ha scattato quella foto da sola perché in realtà ce ne eravamo già accorti non ci abbiamo dato molto peso non abbiamo controllato e siamo andati avanti con l'indagine comunque io ci vedo qualcosa ditemi che non sono l'unica e scrivetemi nei commenti cosa ne pensate voi ad ogni modo amici le sensazioni all'interno di quel posto posso dire che erano reali mi sentivo osservata come se qualcuno ci stesse studiando non nego che c'è stato un momento che desideravo scappare perché c'erano momenti davvero dove mi sentivo addirittura confusa io personalmente sono consapevole di sentire in modo amplificato le energie intorno a me ne vado consapevole perché io stessa lavoro con le energie e di conseguenza le anime diciamo che mi vedono un po come un canale per poter comunicare sicuramente potrebbe essere fantastico per certi versi ma credetemi devastante per altri infatti spesso questo mio sentire diciamo che non riguarda solo le entità ma anche l'energia delle persone e credetemi in alcuni casi è una vera condanna ad ogni modo ero tranquilla perché come ogni indagine mi preparo le mie protezioni mi purifico sia prima che dopo e questo proprio per evitare di trascinarmi dietro qualcosa le mie protezioni ovviamente sono create da me non a caso ma sono specifiche per ogni esigenza per chi magari mi segue anche sui social su instagram facebook sa bene che lavoro con le energie già da diverso tempo anche se diciamo non parlo quasi mai liberamente di questo specialmente qui su youtube ma comunque se volete potete seguirmi su instagram dove seguo anche una pagina dedicata ma ora spostandomi nuovamente sull'indagine voglio precisare che in un modo o nell'altro quasi tutte le entità al loro modo si sono fatte sentire o comunque hanno confermato la loro presenza sicuramente molte entità erano entità residuali ma tante altre no infatti rispondevano alle nostre domande in un modo così preciso da far venire i brividi e tutte le anomalie che abbiamo riscontrato riportano poi alla storia del posto bambini orfani in cerca dei loro genitori bambini allegri intenti a giocare lungo i corridoi ma anche pazienti malati infatti come vedrete poi nelle varie indagini più volte abbiamo sentito come se qualcuno affaticato tossiva e veramente da brividi ma lì come ho già detto secondo me non c'erano solo anime legate a quel posto ma soprattutto entità sinistre forse evocate e richiamate in un secondo momento ovviamente è giusto precisare che ogni luogo abbandonato possiede le sue cattive energie energie stagnanti e pesanti portate proprio dalla condizione stessa di degrado poi c'è anche da sottolineare che questo luogo in particolare è immerso nella natura e questo di per sé diciamo che lo rende già un luogo carico di energia è fonte di energia e la natura stessa siamo circondati siamo in un bosco ragazzi siamo totalmente immersi nel bosco in questa colonia abbandonata molto cripe sono molto più amplificate le energie capo due ragazzi ovviamente ricordiamo sempre che tutti abbiamo il telefonino offline che non fa interferenza che dire amici questa esperienza mi è piaciuta particolarmente anche se per certi versi è stata triste e a tratti anche spaventosa le conclusioni vere proprie non si avranno mai è difficile stabilire con esattezza chi ad oggi si aggira in quel luogo ma una cosa è certa all'interno dell'ex colonia devoto si aggirano diverse entità pronte a farsi sentire e a comunicare vi piacerebbe giocare con noi? no ragazzi assurdo assurdo domande chiari così ci rispondono abbiamo lasciato la struttura a notte fonda il buio faceva da contorno a questa struttura rendendola ancora più tetra e oscura e voltandomi per l'ultima volta ho avuto ancora una volta la stessa identica sensazione mi sentivo come al centro dello sguardo di molti occhi bene amici il viaggio termina qui spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciate un like per farmelo sapere ma soprattutto commentate e fatemi sapere cosa ne pensate vi ricordo che le indagini le troverete sui canali del tpe e paranormal life seguiteci e iscrivetevi ai nostri canali perché ne vedrete delle belle detto questo non mi resta che salutarvi e ringraziarvi per avermi tenuto compagnia anche oggi come sempre ci vediamo al prossimo appuntamento con tante altre storie misteriose e avventure paranormali sempre qui sul mio canale ciao grazie a tutti